Si chiama Presepi Incantati e inaugurata lo scorso 8 dicembre, è giunta quest'anno la sua seconda edizione. Viene ospitata a San Martino d'Alargine, provincia di Mantua, ma diocesi di Cremona, all'interno degli spazi sempre fascinosi della cosiddetta chiesa Castello, luogo nel quale si celebra una sola messa durante tutto l'anno, ma dove spesso trovano spazio momenti culturali di questo genere. Il punto è che nelle intenzioni degli organizzatori, Presepi Incantati, che sarà visitabile fino all'8 gennaio, potrebbe presto divenire un must nella bassa padana e nel comprensorio Olio Po, ossia un'esposizione dei migliori presepi e anche i diorami che durante il periodo di Natale possano compiacere l'occhio, il cuore e lo spirito. A spiegare perché questo evento può aspirare a divenire un classico di questo periodo è il sindaco del comune mantovano Alessio Renoldi. A fare dei presepi, una mostra di presepi in una chiesa penso sia anche proprio a livello di tradizione una cosa bella. Il gruppo che organizza questa mostra, composto da Fabio, Elisabetta, Claudia e tanti altri, è un gruppo solido, coeso, si danno da fare, è un mese che lavorano per mettere in piedi questa mostra e ci teniamo tutti qui a San Martino, viene un sacco di persone a vederla e non possiamo che esserne contenti. Tanti visitatori arrivano in particolare nel weekend, quando la mostra osserva orari di apertura più lunghi e tanti sono anche gli espositori, con un particolare, non certo un dettaglio, che fa la differenza in questi casi. Non abbiamo soltanto amanti del presepe della zona Oliopò, ma anche collezionisti della natività o dei vari momenti di vita legati alla Sacra Famiglia, quali rappresentazioni ideali delle scritture che giungono ad esempio dal cremasco, da Bologna, da Monza, dall'Interland milanese e oltre. Varietà di provenienza corrisponde anche a varietà artistiche e di episodi rappresentati, dato che non tutte le composizioni allestite nella zona centrale della chiesa, oltre che sui due lati più lunghi, riprendono il classico presepe, ossia al momento della nascita di Gesù Bambino e successivamente dell'adorazione dei magi. In qualche caso anche la prospettiva viene cambiata rispetto alla tradizione, mostrando profondità di vedute oppure singolari tagli su parabole forti della cristianità. Non è l'unico motivo di orgoglio per gli organizzatori, ovvero comune e gruppo presepistico di San Martino, in collaborazione con la Proloco. Alla chiesa Castello, infatti, arrivano pure le scolaresche della zona, che lasciano il proprio augurio di Buon Natale, addobbando l'albero pronto a raccogliere messaggi che, in fondo, sono soprattutto testimonianze del passaggio delle generazioni di domani.